Io faccio un altro passo, tu fai il ponzo, tu torni il tasso e vieni il gineo, fanno 1, 2, giù in gineo, 1, 2, torni il gineo, vai, 1, 2, torni il gineo, vai, 1, tutto con te, con te, ponzo, Se metti il passo con te lo metti il ponzo, 1, 4, giù, vai, 1, 10, vai, 1, 4, giú, salto un t 80, do mezzo la palma, passo con te, pulito, pulito, rendeci l'altra palma, 1,2 e in giro. Questo è danji 1 o il footwork. Ora danji 2. Io tiro un pugno in a, tu me lo stopi con un pugno in. Ci siamo totalizzati. Si indietro. Palmata, causa, palmata, piccolo bongso danza. Pugno su pugno. 1,2,3,4,5,6,7,8. 1,2,3,4,5,6,7,8. 1,2,3,4,5,6,7,8. 1,2,3,4,5,6,7,8. Pugno, pugno, rientro, palmata, cavolo, palmo, piccolo bongso danza. Pugno su pugno, rientro, palmata. Stando sempre attenti alla gestione dello spazio. Ok. Ma con il mio corpo, no? Con il prezzo più allontano? Sì, anche se tutto sarebbe di toglierti. E lo so. Allora. Ok. Boom, boom, boom. Ok, ben lontano, perché tu qui puoi venire a ritornare. Un pugno, un'altra. Esatto. Quindi se faccio calo solo con il braccio. Anche se mi funziona, però se hai un arma non mi funziona più. Ho bisogno di andare in cima, guarda laterale. Boom. No.